Marte di pomeriggio la San Bernardo Alba è stata ospite dello stabilimento di Garessio del nuovo titolo sponsor per questo campionato di Serie B 2020 2021 che è proprio Acqua San Bernardo ed è stata ospite anche ovviamente del direttore generale Antonio Biella con cui c'è stata anche l'occasione per scambiare due parole su questa partnership per questa nuova stagione. Quest'anno abbiamo deciso di fare il passo più importante e dare il nome alla squadra, per noi il territorio è fondamentale, il territorio ci dà tanto, dalla nostra acqua minerale ai legami che abbiamo con la Fiera Internazionale del Tartufo piuttosto che con l'Università del Gusto e tutto scorre diciamo sulla riva del Tanaro perché siamo in Alta Val Tanaro e il Tanaro chiaramente giunge ad Alba e per poi proseguire e questo per noi è quindi un cerchio che si chiude e tuteliamo tutte le eccellenze, cerchiamo di tutelare tutte le eccellenze che ci sono sul territorio tra cui sicuramente il basket Alba. E allora sicuramente un supporto importante, allora un legame forte con questa azienda con l'Olimpo Basket e col territorio anche un legame forte di San Bernardo che sostiene tante realtà sportive come ha detto sono anche importanti i valori per San Bernardo dello sport. Diciamo che l'acqua minerale per noi è un prodotto molto importante però nel stesso tempo può sembrare anche semplice, a noi piace quindi appoggiare, sostenere, investire nelle situazioni in cui l'acqua minerale fa vivere emozioni. Sicuramente lo sport soprattutto sulle giovanili, sui ragazzi giovani su cui Alba punta molto è uno di questi elementi come la musica, come la buona cucina, tutti i momenti in cui si vivono delle emozioni che ti permettono di ricordare il nostro brand, i nostri colori, la nostra bottiglia disegnata da Giugiaro. Quindi per questi motivi noi cerchiamo di essere vicino al territorio e cerchiamo di ritornare un po' di quella fortuna che abbiamo noi come imprenditori, come famiglia, come azienda cercando di sostenere appunto le attività del territorio che eccellono e si differenziano dalle altre, tra cui sicuramente c'è la basket Alba. Allora grazie mille davvero al direttore generale Biella soprattutto per il supporto che ci darà quest'anno con la speranza di poter regalare a tutti voi. Grandi emozioni come ha detto, grazie. Grazie a voi e speriamo di vedere presto una partita con un po' di pubblico per chi fare insieme a voi. Grazie assolutamente, speriamo prestissimo. Grazie mille. Grazie.